Salve a tutti amici, in questa seconda parte del corso di LibreOffice Writer vediamo il menu degli strumenti rapidi qua in alto. Strumenti che possono essere trovati anche sotto le varie categorie qua in alto. Allora, cominciamo subito. Questo è nuovo, per creare semplicemente un nuovo documento. Questo serve per aprire un nuovo documento, questo per salvare il documento. Parlando di salvataggio, il formato di Writer è l'ODT. Un formato che è molto compatibile, ma non completamente compatibile, soprattutto con versioni vecchie di Office. Quindi, ecco qua, come potete vedere, possiamo salvare il documento anche in DOCX o in DOC. Questo è il formato più compatibile di tutti, quello che funziona anche con le vecchissime versioni di Word 97, 2000, XP 2003. Quindi se scegliamo di salvare un documento in DOC, questo potrà essere aperto con tutti i programmi di editing di videoscrittura. Quindi sia Office che altri similari. Se no, se vogliamo riaprirlo con Writer, possiamo tranquillamente salvarlo in ODT. Anzi, è più consigliabile se vogliamo riaprirlo con Writer. Quindi salviamo con nome, possiamo anche salvarlo con password. Ci verrà richiesta una password e facciamo salva. Poi qua c'è esporta direttamente come file PDF. Possiamo cliccare e salvare direttamente il documento come PDF, se ci serve salvarlo in questo modo. Quindi non modificabile. Poi qua per stampare, l'anteprima di stampa l'abbiamo già vista nella precedente parte. Qua c'è taglia, copia e incolla. Ovviamente bisogna selezionare una porzione di testo. Ed ecco qua, taglia, copia e incolla. Che tutti sanno, quindi facciamo una prova sul copia. Ci portiamo qua, tasto destro, incolla, ecco qua. Questo invece è il clona formattazione. Allora, adesso vi mostro un po'. Cambiamo il font a questa parte, mettiamolo così. Allora, ho modificato questo nel carattere mile. Adesso clicchiamo, lo selezioniamo prima. Clicchiamo clona formattazione. E adesso clicchiamo su, non so, vediamo. Ed ecco che la parola vediamo prende la formattazione di questo, ovvero stile di carattere mile 12 dimensione. Era sempre uguale. Quindi questo è il clona formattazione. Questo serve per annullare gli attributi inseriti o comunque le modifiche fatte. E questo per ripristinare le modifiche fatte. Sta qua in modifica, annulla e ripristina. Quindi per tornare indietro di uno, di un errore, di una cosa che abbiamo fatto, è qua per ritornare avanti se cambiamo di nuovo idea. Poi questa è l'ortografia e la grammatica. C'è semplicemente un controllo ortografico. Ci chiede, vuoi controllare dall'inizio del documento? Gli diciamo di sì. Controllo ortografico terminato, tutto corretto. Se no, ci viene suggerito, facciamo una prova. Scriviamo scienze senza la i. Lo corregge da sé, però proviamo di nuovo a farglielo prendere. Eccolo, perfetto. Vedete che già la sottolineatura rossa vuol dire che lui ha rilevato un errore. Attenzione perché non sempre si può trattare di un errore. Se è una parola che lui non conosce ma deve essere scritta così, va bene in quel caso. E state attenti anche appunto alla correzione automatica. Avete appena visto che in questo caso lui stava già correggendo scienze. Sono dovuto tornare indietro e fare fisicamente di nuovo l'errore. Quindi tante volte ci può essere una parola che è scritta bene in un modo che sembra sbagliato e lui cerca di correggere. Questo purtroppo è un problema di tutti i programmi di videoscrittura. Quindi adesso riproviamo con l'ortografia ed ecco scienze e ci suggerisce scienze. Correggi. Ecco qua. Corretto l'errore. Poi abbiamo trova e sostituisci. Quindi noi possiamo dire di cercare una determinata parola e sostituirla in automatico con un'altra. Vedete qua ho scritto adesso. Posso dire di cercare adesso e sostituire con ora. Sostituisci tutto in automatico ed ecco qua. Vediamo adesso è diventato vediamo ora. Poi caratteri non stampabili. Se clicchiamo qua viene mostrato tutto ciò che sono fine paragrafi, inizi paragrafi, spazi, tabulazioni. Faccio anche qua un esempio. Siamo alla fine del testo. Prova, prova. Se io premo tab, pulsante tabulazione vedete ha questo simbolo. Lo spazio ha questi pallini. Se facciamo invio chiudiamo il paragrafo. Ecco qua. Semplicemente sono caratteri che ovviamente non verranno stampati ma se per qualche motivo avete bisogno di visualizzare gli spazi, le tabulazioni, i fine paragrafi, questo è il pulsante. Si ripreme di nuovo, va via. Quindi ritorna tutto come era prima. Queste per la tabella facciamo un video a parte sia per questo che per il grafico. Immagine serve per inserire una foto, una clipart, qualsiasi cosa che sia in un'immagine dal proprio computer dentro il documento. Quindi clicchiamo qua e scegliamo la cartella e la foto da inserire. Quindi mettiamo, non lo so, questa. E vedete che già la possiamo spostare dove vogliamo all'interno del documento. E si apre un altro menu. Allora, questo è l'ancoraggio. Possiamo scegliere per ancorare come pagina, paragrafo, carattere o come carattere. La differenza sostanziale la si ha se facciamo come carattere. Vedete che non si può più spostare a destra e a sinistra ma solo in alto o in basso. Comunque fate degli esperimenti. Rimetto alla pagina. E poi qua per gestire quello che succede al testo intorno all'immagine. Quindi qui c'è separato. Qua intorno. Quindi il testo ha anche la possibilità di andare a sinistra e a destra se le dimensioni dell'immagine ce lo permettono. Quindi la ridimensioniamo. Lo mettiamo così, vedete. Può andare anche qua. Invece se clicco separato, vedete, il testo va o sotto o sopra. Quindi c'è scorrimento dinamico attraverso, però attraverso il testo scorre sotto la foto. E anche se io clicco portare indietro, vedete che l'immagine non va dietro il testo. Se avete bisogno di scrivere il testo sopra l'immagine, possiamo utilizzare il campo di testo che ora vediamo. Intanto continuiamo con questo. L'allineamento dell'immagine. Allinea a sinistra, orizzontale, a destra. Allinea in alto. Disponi al centro in verticale o a linea in basso. Mentre questo, porta in primo piano avanti, indietro o porta in fondo. Lo vediamo meglio nelle forme. È utile quando abbiamo più cose insieme, tipo due foto. Quindi qua abbiamo due immagini. Però in questo caso ha tolto l'altra. Sì, perché forse era selezionata l'immagine e ho messo immagine. In questo caso si modifica l'immagine corrente e non viene inserito qualcosa di nuovo. Riproviamo adesso che non è selezionato. Ed ecco che adesso ne abbiamo due. Quindi se intersechiamo le foto, l'ultima foto ha il sopravvento. Vedete, va sopra. Ma se io gli dico di andare indietro, la foto precedente torna ad essere la primaria. Quindi va avanti. Quindi questo è indietro, avanti, in primo piano o in fondo se abbiamo una serie di cose, di forme. Quindi non vogliamo stare a cliccare avanti, avanti, avanti. Poi qua abbiamo i bordi. Possiamo aggiungere bordi sinistra, destra, solo sinistra, destra, in alto, in basso, in alto, in basso. Oppure come cornice. Stile della linea. Il colore del bordo. Rosso, per dire colore di sfondo. A caso magenta. E questi erano... Era il menu contestuale delle immagini. Adesso cancelliamo. Oppure clicchiamo fuori, il menu scompare. Se clicchiamo dentro, il menu torna ad esserci. Quindi, con il campo di testo possiamo creare una forma, un rettangolo, per scriverci dentro un testo. Quindi testo di prova. E questo testo può essere trasportato dove vogliamo, all'interno del nostro documento. E anche se sta sopra un'immagine, vedete che il testo si vede. Ora, in questo caso è nero, quindi dovremmo cambiare il colore. Comunque, il testo si vede anche se sta sopra l'immagine. Quello che vi dicevo prima, con il campo di testo possiamo scrivere anche sopra l'immagine. Quindi, gli dobbiamo dare un colore diverso, ovviamente. Al testo. Quindi, colore e carattere. Non so, rosso. È già diverso, vedete. Si vede già meglio, anche se, ovviamente, bisognerebbe che fosse più grande, con un fonte magari diverso. Comunque, giusto per farvi vedere. Questo è il campo di testo. Il pulsante inserisci interruzione di pagina semplicemente manda in un'altra pagina. Quindi, come se fosse finita qua la pagina. Possiamo continuare nella seconda pagina. Questo è inserisci campo. Inserisce un valore che non è fisso, ma è dinamico e varia in base a quello che è la situazione attuale o la pagina. Vi faccio un esempio. Possiamo inserire il numero di pagina, quindi 2 sta inserendo il numero di pagina attuale. Siamo nella seconda pagina. Possiamo inserire, ad esempio, il conteggio delle pagine. La data, quindi la data attuale. L'ora attuale. Il titolo se c'è. L'autore se c'è. Altri campi qua possiamo scegliere. Questo è carattere speciale. Possiamo inserire dei caratteri che non abbiamo magari sulla nostra tastiera, ma che ci serve inserire. Quindi senza andare per forza su internet a cercare per fare un copiancolla, se lo troviamo possiamo inserirlo da qua. Poi qua abbiamo inserisci nota a piedi di pagina per inserire un appunto qua sotto. Quindi notare che bla bla. Non lo so, una cosa del genere. Qua c'è anche il numero 1 suggerito, quindi questo è utile farlo. Vedete, in questo modo abbiamo questo numerino 1. Avete presente quando anche su un dizionario c'è una spiegazione, poi c'è un numerino 1 in piccolo e poi in basso c'è scritta la spiegazione uguale. Quindi possiamo utilizzare queste note per poi riferirci a una spiegazione che inseriamo a piedi di pagina. Abbiamo il collegamento ipertestuale, quindi possiamo inserire un collegamento a una pagina web, un sito internet, ma anche un documento esterno. Quindi qua, destinazione web, www. eccetera eccetera. Oppure un altro documento di writer, ma anche altre cose, non solo LibreOffice Writer. Queste sono le forme. E le forme però le vediamo in un altro video dove analizzeremo questo menu degli strumenti da disegno. Quindi passo avanti. Mostra funzioni di disegno, ci mostra appunto il menu che vedremo nella prossima parte del tutorial. Vediamo cosa c'è rimasto. Allora, le cose più importanti ovviamente. Allora, torniamo qua. Cancello l'immagine. Allora, questo è lo stile predefinito se vogliamo avere un font un po' più personalizzato. Titolo principale, vedete? Titolo 3. Oppure corpo del testo. Qua possiamo scegliere il font che più ci aggrada, quindi scegliere tra questi, la dimensione del font, il grassetto, ovviamente quello che è selezionato, in questo caso avevo selezionato tutto, grassetto, vedete, corsivo, sottolineato, barrato, togliamo tutto, e questo è un'apice. Allora, l'esempio classico è quando scriviamo una potenza, 2 alla seconda, noi scriviamo semplicemente 22, selezioniamo questo numero e facciamo apice, e vedete che adesso diventa 2 alla seconda, oppure possiamo fare pedice, in questo caso va qua in basso piccolo, quindi questo è uno strumento molto utile. Ombra, qua possiamo ombreggiare, ecco qua. Ecco, questa è una delle cose che potrebbe dare più impronta al testo quando c'è un'immagine di sfondo e volete farlo vedere meglio il testo, l'ombreggiatura potrebbe essere un'idea. Dipende poi anche sempre dal colore usato. Colore carattere, ovviamente qua c'è il colore del carattere, possiamo scegliere quello che vogliamo. Questo è lo sfondo carattere, quindi dietro. E anche questo potrebbe essere un'ottima idea se vogliamo mostrare sopra la foto e possiamo anche sacrificare una porzione della foto mettendo questo sfondo. Questo invece è l'allineamento, allineamento a sinistra è quello di default, ma possiamo scegliere di centrare orizzontalmente, questo è utile farlo per un titolo ovviamente, quindi quando scriviamo un titolo, lasciamo allineato a sinistra, titolo del documento, lo selezioniamo, selezioniamo centra orizzontalmente e siamo sicuri che questo è centrato perfettamente. Poi un'altra cosa, questo è a linea a destra e questo è giustificato. Molte persone, soprattutto delle tesi di laurea, ci sta che vi chiedono di farlo giustificato, quindi quando avete finito la vostra tesi o comunque il vostro testo, ricordatevi se vi chiedono di farlo giustificato, di utilizzare questa impostazione giustificato, che è quella che effettivamente si imposta meglio da un'idea di un testo più ordinato. Invece questo è quello allineato a sinistra, vedete. Poi qua abbiamo l'interlinea, l'abbiamo già visto ma qua possiamo modificarla rapidamente e questo che è molto importante sarebbe l'elenco puntato. Un clic per abilitarlo, facciamo esempio 1, invio a capo, esempio 2, invio a capo, esempio 3, invio a capo. Quando abbiamo finito, riclicchiamo ed ecco che finisce l'elenco puntato e possiamo continuare a scrivere il nostro testo. Questo invece apre un elenco numerato. Prova, 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 quindi semplicemente numerato. Se clicchiamo sulla freccettina bassa abbiamo diverse impostazioni di numeri, quindi quelli tra parentesi, i numeri romani, idem qua nell'elenco puntato abbiamo varie forme. E qua abbiamo invece aumenta rientro, vedete, per spingere avanti il rientro o qua per ridurre il rientro. Quindi questi erano gli strumenti rapidi di LibreOffice Writer. Nella prossima parte vedremo gli strumenti delle funzioni da disegno che chi ha già visto il mio corso su LibreOffice Calc può tranquillamente saltare visto che parlerò delle stesse identiche cose quindi il menu è questo. Solo che ci sono delle persone a cui interessa semplicemente il writer quindi ho bisogno di parlarne di nuovo. Un saluto a tutti.